E' pronta ad accogliere con un abbraccio che non è solo terapeutico ma anche sociale e psicologico l'arrivo di bimbi e mamme in fuga dall'Ucraina, anche l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. La struttura è infatti entrata a far parte della rete degli ospedali pediatrici italiani grazie al gemellaggio con il Santo Bono di Napoli che offre assistenza e accoglienza ai bambini ucraini ma non solo. La rete di assistenza è a tutto tondo con il contributo di mediatori culturali per superare anche le difficoltà linguistiche e psicologi pronti a fornire ogni aiuto e tipo di supporto ai profughi che ne avranno bisogno. E c'è già una donna in gravidanza che è stata ricoverata nel reparto di ginecologia tra i primi pazienti del Ruggi di Salerno. Il nostro ospedale è aderito in particolare per quanto riguarda la fascia della popolazione pediatrica. Tutta l'area di cure pediatriche di tipo secondario, cioè rivolta a bambini che hanno bisogno di ospedalizzazione oppure attività specialistica in ambito ambulatoriale o di de-hospital, tutta l'area quindi delle cure pediatriche del nostro ospedale è pronta a svolgere come dire un ruolo importante nell'accoglienza e nell'assistenza di questi bambini ucraini che giungono da noi e che hanno bisogno di cure. Hanno bisogno di cure sia per mantenere una continuità terapeutica di patologie di cui loro sono portatori. Abbiamo visto in televisione in questi giorni i bambini oncologici e sia di patologie che potessero inforgere una volta che sono arrivati qui accedendo a tutte le prestazioni del nostro servizio sanitario nazionale. Noi offriamo la loro accoglienza mettendo a disposizione supporto psicologico e la presenza di mediatori culturali per superare anche il gap, la difficoltà linguistica e accoglierle il più possibile con umanità e superare la difficoltà linguistica. Stiamo già registrando delle persone, delle accoglienze nei reparti di ginecologia del pronto soccorso. Diciamo che siamo pronti a rispondere a questa emergenza con professionalità e con umanità.